È stato siglato nel Palazzo Comunale di Piombino da Regione e Comune l'accordo di programma da 30 milioni di euro per il rilancio dell'area industriale piombinese con la prospettiva di creazione di altri 110 posti di lavoro. A due mesi dalla richiesta di Aferpi l'accordo autorizza la variante al piano regolatore per la realizzazione di un nuovo impianto di tempra per le rotaie. Il Presidente della Regione ha sottolineato l'impegno delle due amministrazioni, regionale e comunale, per ridurre al minimo i tempi di preparazione dell'accordo che oltre al nuovo impianto prevede anche l'organizzazione di un polo per l'economia circolare per reimpiegare gli scarti di produzione dell'acciaio nel rispetto dell'ambiente. L'accordo prevede anche che nelle acciaierie piombinesi che da luglio 2018 appartengono a Joe Steel Italy si produca acciaio nei forni elettrici e che le aree ed emaniali marginali in concessione ad Aferpi tornino al demanio per essere destinate ad altre attività. L'accordo firmato in India dunque con diverso fuso orario da Joe Steel Italy dovrà essere ratificato dal nuovo Consiglio Comunale che si insedierà dopo le elezioni. Da allora serviranno 18 mesi per realizzare il nuovo impianto a Tempra.